A grande richiesta, continua l'offerta di Accademia del Mobile. Conferma il tuo acquisto entro il 31 dicembre. Accademia del Mobile ti rimborserà il trasporto, il montaggio e anche l'IVA. È proprio vero, anche l'IVA. Affrettati! La promozione è valida fino al 31 dicembre solo presso i rivenditori di Salerno, Avellino e Benevento, aderenti all'iniziativa. L'offerta non è cumulabile con le altre promozioni in corso. Accademia del Mobile Sono mobili in legno massello.